Raffaella Fenoglio apre la serie di incontri della Neo Associazione Culturale Festival delle Ragazze presentando la ragazza che amava Miyazaki a Villa Levratto a Bortighiera. Io direi che l'idea è partita in primis da Donatella Tralci, eccola qua presente che non vuole parlare. È un po' che comunque diciamo ma creiamo qualcosa di particolare e insieme a Raffaella Fenoglio abbiamo creato questa associazione al femminile che presenterà donne autrici in gamba, un'associazione culturale che useremo per fare queste presentazioni qua ai giardini di Villa Levratto, soprattutto volevamo farla vicino alla panchina rossa che ha un simbolo molto particolare e oggi purtroppo il tempo non ci ha graziato e siamo stati ospiti del centro sociale Bordigotto. È andata bene, quando si presentano in Lidia Bordighiera che vabbè quando si presentano in casa sono sempre belli perché a parte che ti porti dietro la clacca e quindi amici parenti, sostenitori, le mie amiche dell'associazione Penelope che abbiamo fondato insieme nel 2017 che è ancora a Superflorida ed è bello perché c'erano anche gli amici della nuova associazione, il Festival delle Ragazze con Donatella Tralci e Barbara Bonavia quindi tutte e tre abbiamo dato vita a questa associazione e sono molto orgogliosa che il primo libro presentato sia stato il mio che è appunto il libro per ragazzi, insomma non era scontata questa cosa invece queste due cose hanno coinciso e ci fa piacere questo è il momento culturale di Bordighiera nel quale appunto presenteremo autrici di un certo livello e non solo e anche personaggi del mondo dell'editoria quindi abbiamo intenzione di invitare delle editrici, delle editor, delle docenti di narratologia insomma persone, donne che diano il loro contributo nel mondo letterario italiano e quindi insomma tutti attenti perché abbiamo già due appuntamenti a luglio e poi abbiamo molte cose in scaletta piano piano attraverso gli organi di stampa, attraverso la pagina Facebook, Instagram vi metteremo a corrente degli impegni che abbiamo preso Sono molto contenta di come sia andata il primo appuntamento della nostra associazione diciamo che abbiamo ricevuto comunque non solo i complimenti ma molto sostegno dalle persone che si sono rese conto che oggi sarebbe nata questa nuova associazione è un sostegno grandissimo, oltretutto lo ricordiamo abbiamo Marco Balbo che ci accompagnerà in tutti questi incontri che ci aglieterà e farà dei momenti musicali con la sua chitarra, con la sua bellissima musica 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 Grazie a tutti.